Ciao, mi trovo all'instance del airport, parlo piano perché c'è un pochino di persone e ho passato questa settimana ad Oxford per quel corso di cui parlo in altre note di business e con l'occasione volevo parlare di una cosa abbastanza importante che accade molto spesso nell'imprenditoria e che volevo parlarti, che si tratta appunto della mancanza di osservazione dei propri settori produttivi all'estero. Mi è capitato quindi, come sarà capitato a tutti quando viaggiamo all'estero, di prendere un caffè o un cappuccino, vedete come sia qui nel Mondano Sassone, quindi in UK e negli Stati Uniti siano molto attrezzati, ma anche in altri paesi soprattutto nel nord Europa, mentre in Italia questa tendenza non c'è, c'è più la tendenza a dare quei bicchierini di polisterolo schifosissimi che a volte neanche hanno il tappo e ti lo danno con l'alluminio sopra e non va bene questa cosa, non va bene perché le cose da affrontare sono tante, perché sembra una bischienata, però in realtà non è così, perché comunque il mondo sta andando avanti, fra qualche giorno a Milano aprirà Starbucks, quindi da lì sicuramente apriranno altri punti vendita e il bar tradizionale o si adegua o sparisce, perché comunque i ragazzi cercano sempre, si lasciano trascinare l'amore. Ora ho preso l'esempio del bar, però gli esempi possono essere tantissimi perché a me capita spesso che vengano nuovi imprenditori o comunque start-up che vogliono aprire un'attività di cui sostanzialmente non hanno assolutamente idea, quindi una cosa fondamentale è se vuoi aprire un nuovo settore produttivo, sicuramente è quello di andare a vedere, non fisicamente, questo è poi fisicamente meglio, ma anche attraverso canali web, come queste attività vengono sviluppate all'estero così da prendere le idee o da capire quali errori sono stati fatti oppure da capire cosa non si deve fare per sviluppare questo tipo di idee all'estero e questo è un consiglio che io voglio dare sempre. Con questo vi saluto quindi ogni volta prima, mi raccomando, quando si vuole set up your business, quando vuoi intraprendere una nuova attività di impresa, ok, va bene, tutte le questioni giuridiche che continuamente affrontiamo, però non ci dimentichiamo di guardare a quella che è la concorrenza e soprattutto a quella che è la concorrenza magari anche nei paesi fra virgolette un attimino più avanti, ok, bye bye.